Ciao a tutti, in questo video voglio mostrarvi gli ultimi acquisti che ho fatto per quanto riguarda lo scrapbooking. In realtà io dedico molto più spazio a fare le card e ai biglietti piuttosto che lavorare con le fotografie. Comunque i materiali che si utilizzano sono esattamente gli stessi. Non ho preso tantissime cose proprio perché non volevo spendere un'enormità e devo anche dirvi che ho anticipato un pochino i tempi, nel senso che ho preso delle cosine natalizie. Siccome c'erano degli adesivi che mi piacevano molto sul tema natalizio, ho deciso comunque di prenderli per paura che finissero, quindi ho detto meglio non rischiare e compriamoli. Quindi insomma, questo volevo anticiparvelo. E niente, io adesso cambio inquadratura, vi faccio vedere quello che ho preso più da vicino, quindi ci vediamo tra un attimo. Allora, questi qui sono gli adesivi di cui vi parlavo. In realtà non credo siano degli adesivi. Coprio, adesso li apro con voi e vediamo. Sì, 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 sì. Sono degli adesivi in feltro, li trovavo davvero deliziosi. E quindi li ho presi per paura di non trovarli più. Poi ho preso questo timbrino con la scritta auguri e lo trovo molto pratico e, insomma, l'ho preso. Poi ho preso, appunto, altri adesivi natalizi, questa è una carta. Ok, adesso sono finite le cose natalizie e ho preso questi altri adesivi da mettere, ecco, sulle carde, sui biglietti come decorazione. Vedete, ci sono delle decorazioni più grandi, come questo e questo fiore, e altre decorazioni invece più piccole e che si prestano meglio a quello che voglio fare. Poi un'altra cosa che mi piace molto sono queste strisce che comunque io in genere taglio e le uso per decorare magari i bordi. Infine ho preso questo stondangoli. Allora, vi faccio vedere come si utilizza. A differenza degli altri che ho, ha una guida per inserire l'angolo del foglio. Ok, quindi si posiziona alla perfezione. E poi basta premere. E come vedete rimane questa bellissima decorazione sull'angolo. La trovo veramente molto molto deliziosa. Infatti sono contentissima di avere preso anche questo perché era l'ultimo esposto. Va bene, allora questo è tutto e ci sentiamo quindi al prossimo video. Ciao ciao!